Oh, nonno! Che avviene? Eh? La finestra, figliolo! La finestra! C'è un brutto signolo che a me fissa! Ehi tu! Ti sembra giusto fissare i nonni? Guarda che mio nonno ha la sua età, c'ha il cuore debole! Nessuno è stato in grado di rispondere al mio quesito! Non so, sarete qua a perder tempo! Nonno? Ti ha fatto una domanda particolare per caso il signore? Nonno! NONNO! Ti ho chiesto se il signore ti ha fatto qualche domanda in particolare! NO! Non c'è bisogno di urlare! Raga, è il giorno in cui avrete fatto un progetto commerciale e con una meccanica che non esiste, allora prenderò in considerazione le vostre parole! Per il resto, la maggior parte di voi rimarranno sfigati con del tempo da perdere qua dentro! Capisco che alla plebaglia devi far capire cosa siano le cose! Ma che bella grammatica! La vedi questa? Questa è la mia pistola! E tu sei il mio bersaglio! La pistola spara a proiettili! I proiettili non fanno bene alla salute! Pensa alla tua salute! Non farti sparare dalla mia pistola! Non farti sparare dalla mia pistola!